Da Largo Flaiano adesso si esce, si imbocca la bretella e da lì l'autostrada oppure la rampa che conduce alla rotonda dell'Esse Lunga, snodo essenziale per diverse destinazioni. Resta da capire quando a Largo Flaiano si potrà anche apparodare, cioè quando il ponte sulla ferrovia sarà terminato e il nuovo ingresso verrà pronto. Sono passate poche settimane da quando l'assessore Andrea Civati illustrò alla commissione lavori pubblici previsioni, scadenze e anche fisiologici intoppi che data l'imponenza del progetto è ragionevole mettere in conto. L'interrogativo che ora fa Capolino riguarda le festività natalizie, occasioni imperdibili per il commercio locale e più in generale prezioso volano di attrattività. L'auspicio è che da qui all'inizio del periodo Varese non risulti più facile solo da lasciare ma anche da raggiungere.